Io culturalmente e politicamente sono sempre stato a favore del controllo da parte dello Stato di alcuni settori nevralgici, le telecomunicazioni, la sanità e anche chiaramente i trasporti, in questo caso le autostrade. Io credo Marco che questa debba essere la battaglia principale da portare avanti da parte di tutti i cittadini e come Movimento 5 Stelle, perché le autostrade le abbiamo pagate noi, le hanno pagate i nostri nonni, i nostri padri con le nostre tasse, poi qualche anno prima dell'entrata nell'Unione Europea sono state regalate di fatto alla famiglia Benettono, una famiglia estremamente potente, una delle tante famiglie che rappresentano l'oligarchia italiana, potentissime con delle enormi connessioni con il sistema mediatico, altra oligarchia di questo paese, il sistema mediatico è un'oligarchia e quindi oggi come oggi fare battaglie affinché lo Stato possa recuperare il controllo delle autostrade sono battaglie politicamente scorrette, battaglie che ti creano un sacco di nemici, un sacco di problemi, articoli contro, a me mi massacrano sulla stampa, da destra a sinistra, mi massacrano per queste posizioni, perché? Perché fondamentalmente la famiglia Benetton prima aveva addirittura delle azioni dirette all'interno dei giornali, possedeva azioni se non sbaglio del gruppo Caltagirone, se non sbaglio addirittura del Corriere della Sera, poi quando si è resa conto che questo poteva essere un po' sconveniente ha continuato a controllare, a voler indirizzare al sistema mediatico i giornali, cioè tutto ciò che noi leggiamo quotidianamente attraverso un sistema un po' più soft, non più, diciamo, un possedimento diretto di quote azionarie ma pubblicità e non solo, anche grandi sponsorizzazioni. Queste robe è difficile leggerle, il fatto quotidiano le scrive, le pubblica, però è difficile leggerle e quando io vado in televisione magari vengo intervistato dalla Gruber, dall'annunziata, è sempre molto complicato, appena tocchi un potente di quelli veri, potenti veri non sono i politicanti che magari vengono qui a chiedere voti, personaggi esponenti dei partiti politici, non sono loro, sono utili idioti del sistema i politici, credetemi, i potenti in questo paese sono altri e o li prendiamo di petto al di là delle nostre convinzioni, chi è di destra, chi è di sinistra, poi per me sono categorie obsolete e piuttosto passate, o li prendiamo di petto come il popolo italiano o continueranno a calpestarci, calpestare i nostri diritti e addirittura, per come si è visto la vicenda del Ponte Morandi, attraverso mancate monotensioni addirittura ci ammazzano. Sappiate che il gruppo Benetton, varie aziende del gruppo Benetton sponsorizzano appunto il sistema mediatico, quest'anno la Repubblica ha avuto quantomeno il pudore di non farsi finanziare, sponsorizzare dal gruppo Atlanti appunto le autostrade, il festival che fanno ogni anno che si chiama la Repubblica delle idee, ma fino all'anno scorso era finanziato dal gruppo Benetton, il gruppo Benetton produce un programma che va in onda su Sky, il gruppo Benetton fino all'anno scorso finanziava, sponsorizzava il Giro d'Italia, il Giro d'Italia è organizzato dalla società eventi o di organizzazione eventi di RCS, Corriere della Sera, cioè questo è il problema che c'è in Italia, l'accentramento di potere, è questa la battaglia principale che dobbiamo appunto compiere e portare avanti. Sto leggendo delle dichiarazioni di fuoco di Luigi Di Maio che evidentemente come capirete bene mi trovano perfettamente d'accordo, dovete sapere che si parla tanto, procedura di infrazione, 5 miliardi dell'Unione Europea, flat tax, 10 miliardi di euro costerebbe questa misura, tra l'altro io non sono mai stato contrario all'abbassamento delle imposte, figuriamoci. Ecco sappiate che il gruppo Benetton di utili ha fatto da quando gli è stata di fatto regalata la concessione, insomma regali a questi gruppi di oligarchi, di industriali, con le pezze al culo sono stati regalati i pezzi di Stato a due lire, ecco il gruppo Benetton ha fatto circa 10 miliardi di euro di utili, per quale motivo 10 miliardi di euro di utili non li possiamo fare noi come popolo, per quale motivo non lo possa fare lo Stato quest'utile? Per cui insomma Salvini che come ho sempre detto io non lo accuso per quanto riguarda, non so qualcuno l'idea del fascista, del razzista, per me non è questo il problema, il problema è che quando deve prendere di petto un potente se la fa sotto, questa è la verità, e lo fa rispetto a opere assolutamente obsolete come il TAV, lo fa rispetto appunto ai gruppi editoriali o alle radio private come Radio Radicale, alla quale Lega e Partito Democratico ha regalato recentemente i quattrini nostri, cioè soldi nostri che vanno ad una radio privata, oltretutto il cui proprietario di fatto in un certo senso è un partito, ma c'è in mezzo pure in Radio Radicale un gruppo enorme di distribuzione se non sbaglio di supermercati eccetera eccetera che fattura circa 2,3 miliardi di euro all'anno, cioè incredibile eppure ce li dobbiamo mettere noi come cittadini con le nostre tasse, cioè quello che noi paghiamo magari di IVA prendendoci una birra, qualcosa, deve andare a finanziare Radio Radicale e lì la Lega c'è stata di mezzo, lo io l'accusa che faccio, questo momento non è semplice perché lo so che Salvini cia il vento in poppa, però io resto con queste convinzioni, il problema è che la Lega si sta comportando, tolta la questione migratore esattamente come il Partito Democratico, sempre a favore del grande capitale, sempre a favore dei gruppi di oligarchi, sempre a favore del potere costituito, sempre a favore del sistema mediatico temendo evidentemente articoli contro, questa è la verità, per cui il movimento ha l'obbligo, come sta facendo Luigi di andare avanti per questa strada, perché è un sacrosanto diritto riprenderci l'autostrade e quando leggo Salvini dire ah però dobbiamo tutelare l'occupazione, ma chi vuole, chi non vuole tutelare l'occupazione? I dipendenti di autostrade per l'Italia diventeranno dipendenti dello Stato e state tranquilli che lo Stato ci guadagnerà, magari abbasserà i pedaggi, farà degli utili che rinvestirà magari in settore sociale e tratterà meglio i lavoratori che oggi lavorano per il gruppo Benetton rispetto a quanto lo stiano trattando proprio quelli del gruppo Benetton e questa è una battaglia che se il movimento avrà il coraggio e ha il coraggio di portare avanti, troverà d'accordo il 90% del popolo italiano, non troverà d'accordo le redazioni dei giornali, le televisioni, ci faranno guerra, mentiranno, scriveranno idiozie o cose vergognose nei miei confronti, nei confronti di Luigi Di Maio, minacceranno querele come ha fatto il gruppo Benetton recentemente proprio ieri con Luigi Di Maio, ma sono queste le battaglie che cambiano il paese, queste e dobbiamo capire come il popolo italiano che oggi abbiamo il dovere di combattere per riprenderci la gestione di determinati settori, punto, il resto sono chiacchiere. Il problema principale di questo paese è l'accentramento di potere in poche mani, sono ripeto gli oligarchi, sono personaggi e lo scrivo in questo libro come Malagò, come Montezemolo, come Pescante, come Carraro, li vedi esultare per le Olimpiadi, io non ce l'ho contro le Olimpiadi in sé, anche se mi sono battuto affinché non fossero fatte le Olimpiadi a Roma perché ci sarebbero costati due miliardi di euro di denaro pubblico e di denaro dei cittadini romani, in Roma c'è un sacco di problemi, per cui va bene, vanno bene le Olimpiadi perché si facciano nel rispetto dell'ambiente, con appalti trasparenti, dice Sala senza gli amici degli amici, te credo la maggior parte degli amici di Sala le hanno arrestati per lo scandalo Expo, uno se lo dimentica, però per me sono questi personaggi, se il movimento continuerà su questa strada, coraggiosa perché poi te la fanno la guerra, perché hanno le mani sui giornali, sulle televisioni, televisioni, sui programmi, sulle reti televisive, credetemi, le ho subite sulla mia pelle tante ingiure, tante imbettive, tante menzogne, credetemi, se il movimento continuare ad avere questo coraggio io sono molto tranquillo, molto molto tranquillo, ma questa è la battaglia, ripeto, più importante che occorre, combattere come popolo italiano, perché è intollerabile che quattrini li possano fare, gruppi di industriali, privati, che oltretutto non fanno tornare nulla indietro e oltretutto sono, diciamo poi le responsabilità penali le deciderà la magistratura rispetto al crollo del Ponte Morandi, ma la politica deve assumersi la responsabilità, io me li ricordo gli applausi che il giorno del funerale di quei disgraziati, delle vittime di Genova sono stati rivolti a Luigi e a Salvini quando entravano durante il funerale, perché sono arrivati quegli applausi? Perché quei cittadini si fidavano di certe dichiarazioni molto forti, recupereremo il controllo di autostrade, chi paga, chi ha sbagliato pagherà, ma non è che paga soltanto con la magistratura, deve pagare, cioè gli vanno revocate le concessioni, punto, è questo che gli fa male a certi soggetti, toccargli il portafogli e io in questo, rispetto a questo sto vedendo da parte della Lega un comportamento estremamente pavido, perché un conto è andare in televisione e fare l'uomo forte, fare battutine, mi fa battute su di me, Salvini io non mi offendo figurati, a me non me ne frega niente, mi interessa però che ci siano politici che abbiano il coraggio, l'ardore, gli attributi per andare a prendere di petto i poteri veri, quei poteri forti che in questo paese hanno nome e cognome, che si chiamano De Benedetti, Caltagirone, Malagò, Montezemolo, il gruppo Benettoni, sono questi i soggetti che hanno impedito lo sviluppo al nostro paese, hanno impedito a noi cittadini di vedere un futuro in maniera radiosa, se il movimento continuerà a prendere di petto questi poteri sapendo a che cosa andrà incontro, appunto battaglie mediatiche contro di noi, fango su tutto, pulci su ogni cosa, il movimento avrà un futuro radioso, per quello io sono molto felice di ciò che sta succedendo in questi ultimi giorni, perché è sempre stata la mia linea, anche quella di Luigi, appunto prendere di petto poteri forti e poteri forti non sono più i partiti in questo paese, credetemi, i partiti sono semplicemente degli strumenti in mano al sistema per vedersi ancora garantiti gli interessi a discapito di tutta la collettività.